Il prossimo governo, se non si sta attenti, è un governo che è totalmente di destra e come fare ad avere un governo non di destra destra ha due alternative. La prima è dar retta al nostro amico che vuole aumentare le tasse e invece aumenta i voti della Meloni. La seconda è cercare di fare una area centrale vera riformista che prenda i voti dei moderati che non vogliono votare la fiamma e che prenda i voti dei riformisti che non vogliono votare un PD diventato un'altra cosa rispetto a quello che conoscevamo noi. Quest'area qui la puoi chiamare di centro, la puoi chiamare terzo polo, la puoi chiamare come la chiama Calenda l'Italia sul serio, la puoi chiamare come ti pare. È un'Italia che c'è ed è un'Italia che ha bisogno di essere rappresentata ed è l'Italia che dà stabilità. È quella che quando c'è stato da tirarsi sulle maniche di camicia e mandare a casa Conte, anche se si era controcorrente e contro i sondaggi. L'ha fatto perché era giusto per il Paese, non per i sondaggi. L'Italia, secondo te... Grazie a tutti. Grazie a tutti.